Consentire la partecipazione popolare alle scelte dalle decisioni importanti e strategiche con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Lo prevede il disegno di legge a firma del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano approvato a maggioranza nell'Aula del Consiglio regionale pugliese con il voto contrario delle opposizioni di centrodestra del Movimento 5 Stelle. Previsti il dibattito pubblico obbligatorio, il programma annuale della partecipazione, la consultazione pubblica anche tramite una piattaforma informatica, la nascita di un organismo di garanzia. La legge viene finanziata con 50.000 euro per il 2017, mentre per gli anni successivi la quota sale a 100.000 euro. E' una legge che mette tutti nelle condizioni, ha spiegato Emiliano, di essere parte attiva di un processo strutturato, finanziato e regolato che addirittura prevede la obbligatorietà del dibattito pubblico sulle grandi infrastrutture e opere da realizzare. Ecco qual è l'idea della politica del centro-sinistra della Regione Puglia.